Concerti dal vivo, workshop, incontri con i migliori professionisti della musica, degli impianti audio e luci con gli artisti e questo ma non solo Sound Expo. Il luogo scelto è l'Aurum, l'ex fabbrica di liquori immersa nella pineta d'Annunziana a Pescara appuntamento per sabato 7, domenica 8 ottobre con il Salone della Musica numero 1 in Italia. Sound Expo è una kermesse che attualmente è diventata molto importante perché in centro Italia sta rappresentando quello che è lo strumento musicale in fiera, l'audio e le luci e per la prima volta dopo anni l'audio e le luci tornano ad essere affiancati allo strumento musicale come molti anni fa in altre fiere molto famose e naturalmente non abbiamo tralasciato la formazione, quindi è un punto di ritrovo per tutti i musicisti per provare strumenti musicali per la formazione e chiaramente per divertirsi con la musica. Qual è l'importanza di questa tappa pescarese? Diciamo che erano anni che noi cercavamo di capire se ci fosse la possibilità innanzitutto di riunire quello che è tutto il centro dell'attenzione musicale parlando di strumenti musicali audio e luci, ma la cosa importante che noi abbiamo voluto fare è anche formare un team che lavorasse a un ampio raggio di artisti che potrà esibirsi sul palco centrale per coadiuvare tutto quello che è il mondo della musica, quindi delle luci e dello strumento musicale. Avremo degli ospiti a livello mondiale. Ecco, vogliamo parlare di chi interverrà a questa manifestazione, qualche nome? Abbiamo nomi importanti come Alan Caron, Damien Schmidt, come possiamo vedere qui John Roney, Rossana Casale, quindi tutti artisti di primissimo ordine, sono artisti importantissimi che sono voluti venire, sono anche Roberto Gatto e tanti altri. Grazie a tutti.